Questa mattina il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e il Vice Presidente Ettore Rosato hanno partecipato alla presentazione del Rapporto 2017-2018 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione Europea che si è svolta nel Palazzo Picalfieri all'Aquila. Il rapporto costituisce una base fondamentale di conoscenza per riflettere proprio sulle tendenze in atto della produzione normativa e per prospettare possibili soluzioni condivise. A questo proposito il mio ringraziamento va alla conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Provincie Autonome per aver aderito alla proposta di avviare un percorso comune di raccolta dei dati e di riflessione sulla legislazione. Il Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri ha aperto i lavori salutando gli intervenuti tra i quali i rappresentanti delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Campania, Sardegna, Lombardia, Lazio, Puglia e le autorità presenti. Successivamente la delegazione si è spostata per una visita nel vicino Palazzetto dei Nobili restaurato con il contributo della Camera dei Deputati per poi proseguire la visita nel centro storico attraverso Piazza Duomo, la Chiesa del Suffragio e raggiungere Palazzo dell'Emiciclo dove è stata accolta dal Presidente Sospiri accompagnato dai Vice Presidenti Roberto Sant'Angelo e Domenico Pettinari, dal Consigliere Segretario Sabrina Bocchino e da una rappresentanza dei componenti dell'Assise Regionale. Fico e Rosato hanno potuto ammirare gli spazi dell'Emiciclo ascoltando con attenzione i temi del restauro e soffermandosi a lungo tra i libri della Biblioteca Giuseppe Bolino e infine nell'Aula Consigliare Sandro Spagnoli.